E' dal 2003 che l'ONU, Organizzazione delle Nazioni Unite, propone in tutto il mondo la celebrazione della giornata internazionale della montagna. Sul pianeta Terra le montagne coprono un quarto della superficie terrestre e ospitano il 12% della popolazione mondiale. Proprio la montagna rappresenta spesso l'habitat più minacciato, deforestazione, sfruttamento indiscriminato del territorio, alti tassi di emigrazione. La Valle d'Aosta, territorio montano per eccellenza, ha voluto proporre a livello locale una riflessione sull'agricoltura familiare nel contesto montano, in linea con il tema deciso dall'ONU con un convegno organizzato l'11 dicembre 2014 presso il Salone di Palazzo Regionale ad Aosta. Credo che sia scontato l'attenzione che noi abbiamo verso quello che è la nostra matrice, verso quello che è il punto di riferimento per tutti quanti lavorano, vivono nella nostra regione e che hanno a cuore quello che è lo sviluppo e il futuro. Quindi una giornata internazionale che si ripete ogni anno con tematiche diverse e con un'attenzione che speriamo diventi qualcosa di tangibile, cioè che sia con dei riflessi positivi per chi ci lavora. Obiettivo dichiarato della giornata è dunque di porre le basi per lo sviluppo dei diversi territori e una concreta opportunità per mobilitare risorse per migliorare le condizioni di vita delle comunità di montagna. Oggi è una giornata importante per la nostra realtà, la nostra realtà montana. La dodicesima giornata internazionale della montagna è consacrata quest'anno all'agricoltura, all'agricoltura nel nostro caso parleremo di agricoltura familiare, quindi una famiglia rurale, quella valdostana in particolare, che da sempre è custode di un territorio, custode di tradizioni e custode di salvaguardia di quelle che sono le tipicità della nostra regione. È un'ancora di salvezza per le nostre realtà rurali, dove fortunatamente grazie ancora all'agricoltura, all'agricoltura familiare in particolare, riusciamo a mantenere sul territorio, legate e ancorate al nostro territorio, molte famiglie e a diminuire quella che è la dispersione che abitualmente caratterizza altri paesi montani. Al termine del periodo di programmazione 2007-2013 del piano di sviluppo rurale, anche la Valle d'Aosta guarda con attenzione alla nuova fase di investimenti europei che caratterizzerà il prossimo futuro. Credo che per quanto riguarda la nuova programmazione, quella che sarà la nuova frontiera dell'agricoltura montana in generale e valdostana in particolare, sarà quella di promuovere la diversificazione a livello aziendale per permettere delle integrazioni di reddito che consentano così di trarre da questo lavoro duro, di questo lavoro di salvaguardia del territorio, le necessarie sussistenze economiche per poter permettere una vita dignitosa. Durante il convegno sono stati presentati i risultati della valutazione in itinere del programma di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013. In particolare in questo seminario presentiamo un rapporto, un approfondimento tematico che abbiamo fatto invece sulla famiglia rurale, sulla famiglia agricola, ricostruendo attraverso una sorta di racconto urale quello che può essere uno spaccato negli ultimi 40 anni dell'agricoltura valdostana. Quello che esce fuori è che le famiglie sentono di vivere un momento epocale di cambiamento, sia dovuto alla crisi economica, a un eccessivo carico della burocrazia che pesa a 360 gradi sulla normale amministrazione dell'azienda e sia su una rottura di equilibri che si sta verificando nelle comunità locali in cui il peso degli altri settori prima in qualche modo suppliva all'inefficienza dell'agricoltura e adesso con questa crisi e quindi col crollo magari dei settori industriali e dei servizi l'agricoltura è ancora più sola nel dover affrontare le sfide, soprattutto quelle della globalizzazione, della concorrenza a livello internazionale, caduta del prezzo del latte e quindi c'è bisogno di politiche al di là della politica indirizzata all'agricoltura che guardino un po' più al sistema. La celebrazione della giornata internazionale della montagna è avvenuta in concomitanza con la chiusura del progetto di cooperazione trasfrontaliera Mesalp, Maison de l'Alpaggio, Cœur des Alpes. L'iniziativa è stata sostenuta dall'Unione Europea nell'ambito del programma di cooperazione trasfrontaliera Alcotra che ha permesso di realizzare e allestire nel comune di Val Tournancho e la Maison de l'Alpes de la Valle d'Ost, uno spazio informativo, espositivo e didattico dedicato al patrimonio agropastorale valdostano.